Ora, ci sono gli spuntini! Possiamo dare inizio alla festa! Manca solo un ultimo dettaglio! La musica! Beh, una soluzione c'è! Basterà premere questi altri pulsanti! Oppure questi! Uff, comincia a buttarmi un po' giù! No, non in quel senso! Proviamo con questo pulsante! O magari con questo! O questo, o questo, o questo, o questo! Questa cosa è fuori controllo! No, gli spuntini! Rivoglio la sovaglia, subito! No, un momento! Magari è questo, o questo, oppure questo, o altrimenti questo! O questo, o questo! Forse questo, forse questo, forse questo, forse questo, forse questo! Oh, nessun pulsante va bene! Ho avuto un'idea! Wow, l'ho sistemato! Adesso possiamo dare inizio alla festa! Scateniamoci! No, non, 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 non